Buonasera a tutti, benvenuti al nostro appuntamento del mercoledì sera, un mercoledì che ci unisce, ci raccoglie nella nostra analisi di economia familiare per poter vedere insieme quegli argomenti, quelle situazioni in cui ci troviamo spesso, spessissimo di fronte e a confronto. Il ragionamento di oggi che volevo portare in questa puntata è il come mai le aziende fatturano miliardi, parliamo di milioni, facciamo milioni, con utili pazzeschi e il nostro tenore di vita si fa sempre più difficile, diventa sempre più difficile affrontare la vita quotidiana. Ora facciamo un po' il punto sulla situazione fatturati, non vogliamo fare i conti in tasca alle aziende, facciamo i conti invece in tasca nostra. Allora, l'utile di un'azienda è in sostanza la differenza tra costi e ricavi, quindi che cosa succede? Già questa differenza tra costi e ricavi dovrebbe farci capire che un prodotto che noi paghiamo 50 euro non può costare all'azienda il medesimo prezzo, ma per avere un utile pazzesco l'azienda lo deve vendere al 200-300-400-500% in più. Questo dovrebbe farci capire come mai l'ascesa dei prezzi, la politica di ascesa di prezzi ha virato notevolmente in questi ultimi anni, perché l'azienda deve produrre utile, perché le aziende hanno degli azionisti, quindi hanno degli azionisti che vogliono una rendita e la rendita ce l'hanno attraverso gli introiti che hanno, quindi i fatturati devono essere alti ma deve essere alto anche il margine di guadagno, quindi i prodotti che ci sono sul mercato oggi qualitativamente sono alti ma la materia prima con cui sono composti si può essere di qualità però ci sfugge questo costo della materia prima, se un prodotto lo paghiamo a 50 euro è perché probabilmente di materia prima venga utilizzato 5 euro di costo, poi ci sono i costi di trasformazione che incidono i costi di marketing, i costi di distribuzione che però non potranno mai arrivare a colmare 50 euro del prodotto, possono colmare il 10 per cento, il 15 per cento, quindi 3-4 euro di costo di materia prima più 3-4 euro di altro costo personale, contribuzione, trasformazione distribuzione eccetera eccetera, quindi possiamo arrivare a 8 euro, 10 euro di fronte ad un costo finale di 50 euro, quindi in mezzo ci ballano 40 euro che potrebbe essere tranquillamente l'utile della società, nessuno dice, nessuno sta dicendo nulla che una società non debba essere a scopo di lucro ma ci mancherebbe altro che un imprenditore abbia, non abbia il lucro, però voi non avete, vi è sfuggito un qualcosa di mano e cioè la capacità di analisi di un qualcosa che tutto ciò che costa tanto è qualitativamente alto, questo il mercato l'ha capito e l'ha capito molto bene, ecco perché le aziende hanno dei fatturati pazzeschi e degli utili pazzeschi soprattutto perché il fatturato può essere alto ma va sempre controllato l'utile e guarda caso l'utile di queste aziende che fatturano milioni, miliardi sono altissimi, quindi vuol dire che c'è una differenza abissale tra il costo della materia prima utilizzato e il prezzo del prodotto finito. Considerando anche tutti i costi del personale, i costi di distribuzione eccetera ma è giusto allora, è giustissimo che le società abbiano uno scopo di lucro ma io parlo dal punto di vista vostro del consumatore, è giusto che voi valutiate un prodotto secondo il costo e questo va a incidere sulle vostre tasche, a me non me ne frega niente perché io i prodotti li so scegliere benissimo, non mi faccio più fregare dalla pubblicità, ma voi lo fate questo oppure no? Perché io ogni tanto dei commenti vedo quello che dice eh ma no ma se quello costa 30 non si è capito come mai ci sono questi costi, molti non hanno capito come funziona il mercato, molti non sanno, il 90% delle persone non lo sa, non sa valutare il prodotto, ecco perché le aziende fatturano miliardi, perché se lo sapessero non ci sarebbero sicuramente tutti questi margini, tutti questi margini, certo dietro poi questi utili ci sono comunque gli azionisti che si arricchiscono, ci sono comunque delle persone che stanno dietro che comunque si arricchiscono eccetera ma tutto però a spese del consumatore, dell'utente finale, quindi bisogna cercare di valutare un prodotto e la materia prima con cui è fatto. Se un paio di scarpe costa 800 euro e ci sono, ci sono anche da 1000, da 2000 euro. Probabilmente non è un paio di scarpe che va bene per noi, perché è un paio di scarpe che ha un blasonato, ha comunque un'etichetta, un brand, probabilmente è rivolto a un mercato, dovrebbe essere rivolto a un mercato di benestanti, però abbiamo già visto che noi vogliamo fare i ricchi e quindi magari facciamo i debiti per andarci a comprare determinate cose, tipo le scarpe di un certo brand. Ma io credo che questa bolla stia un po' scoppiando, perché comunque abbiamo, stiamo un po' sdoganando tutti quei concetti in cui un prodotto, il costo di un prodotto debba per forza essere, finare deve per forza essere alto per avere una qualità massima. Valutare un prodotto vuol dire conoscere gli ingredienti di un prodotto, vuol dire conoscere la materia prima con cui è fatto un prodotto e purtroppo è l'ignoranza che porta l'utente finale a spendere tanto e a non saper scegliere, a distinguere un prodotto piuttosto che un altro. Documentatevi ragazzi, documentatevi perché comunque ne trarete beneficio. Non è vero che tutti i costi, tutto il materiale sul mercato costa tanto, è vero che non sappiamo scegliere, non sappiamo scegliere, perché allora come fanno le persone che magari hanno una famiglia e vivono con 1000 euro al mese? Comunque ce la fanno perché sanno valutare, perché comunque le condizioni di vita hanno portato queste persone a conoscere meglio la materia prima, perché non è vero che spendendo poco si comprano solo delle schifezze, non è assolutamente vero questo. Andate a vedere i componenti di una crema. Ci sono creme che costano 5 euro che hanno gli stessi principi attivi di creme che costano 200 euro. Quindi bisogna valutare il beneficio anche di questa superiorità di prezzo perché è sempre giustificato secondo le aziende. le aziende ti dicono ah sì però guarda che questo prodotto ha un grado di efficacia dell'800 per cento rispetto ad un'altra crema. Sì ma stiamo parlando dell'800 per cento di cosa? Di milligrammi dove una percentuale infinitamente piccola che manco la pelle si accorge di questo 800 per cento di differenza. Capite che ci prendono in giro no? Cioè ci prendono in giro sulla scorta dell'ignoranza che abbiamo perché non riusciamo a capire che questo principio attivo se lo prendi all'uno per cento lo prendi all'ottocento per cento in più per dire allo zero virgolo l'ottocento per cento in più avrai un piccolissimo beneficio in più e quindi le aziende marciano su questa su questa cosa oppure componenti che non servono assolutamente a niente. Se andate in farmacia e prendete che ne so l'aspirina costa 3 euro per dire se prendete l'aspirina con la vitamina c costa 5 euro capite che costa il costa quasi il doppio e praticamente con una vitamina con un grado di vitamina c che non serve assolutamente a nulla perché ha un grado talmente basso di un dosaggio talmente basso di vitamina c che praticamente non vi fa niente piuttosto con 3 euro andatevi a prendere una spremuta d'arancia al bar se la trovate ancora a 3 euro ma dubito che avrete più benefici quindi il saper scegliere porta comunque la persona ad avere un maggior controllo del proprio stato economico basta buttare via i soldi ragazzi investite in modo diverso le vostre risorse economiche perché si stanno limitando sempre di più perché i prezzi sono notevolmente aumentati ma aumentano perché hanno terreno fertile ragazzi perché sanno che comunque adesso possono prendere i soldi quindi se una materia prima non materia prima se un prodotto finito un prodotto finito non la materia prima se un prodotto finito prima lo potevano vendere a tot a 10 euro adesso ve lo vendono a 20 euro a 30 euro perché adesso possono possono battere il ferro finché è caldo quindi svegliatevi e scegliete meglio buon mercoledì a tutti e ci vediamo durante la settimana grazie